Ormai prossimo il picco influenzale atteso per metà gennaio. Ad oggi, rileva il virologo Fabrizio Pregliasco, sono stati già colpiti 2 milioni di italiani, di cui 672 mila nell'ultima settimana e con tendenza all'aumento. Si prevede dunque una stagione più intensa rispetto alla scorsa, che fece registrare un totale di 5 milioni di italiani colpiti. Tuttavia, non si può parlare di un'influenza più cattiva. Sulla nostra penisola, ad aumentare in questi ultimi giorni, gli accessi ai pronto soccorso, soprattutto per i bambini, per i quali si segnala un più 20% di arrivi rispetto alla passata stagione, ed intasati sono pure gli studi dei medici di base, così come afferma il segretario della Federazione dei Medici di Medicina Generale, FIMG, Silvestro Scotti, casi più numerosi tra anziani e bambini. Intanto, proprio in Puglia, i primi decessi, ben tre. Sei invece le persone ricoverate in grave condizioni in rianimazione, dati questi forniti dall'Osservatorio Epidemiologico Regionale Pugliese. Le vittime, ricordiamo, ricoverate a Bari, un 58enne affetto da ipertensione, un 86enne e un 73enne affetti entrambi da diverse patologie. Ricoverati in diversi nosocomi pugliesi altri sei pazienti in gravi condizioni. Due degenti di 47-49 anni sono invece ricoverati in coma all'ospedale di Udine, l'uno diabetico, l'altro apparentemente privo di fattori di rischio. Nessuno dei due pare fosse vaccinato. Casi gravi che tuttavia, sottolinea il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità Gianni Rezza, rientrano purtroppo nella statistica dei decessi annuali per le complicanze dell'influenza pari a circa 8-10 mila. Il fatto è che quest'anno si stanno registrando molti più casi, tanto che è stato già superato il picco dello scorso anno e ciò per la presenza di più virus. Che l'influenza sia in piena corsa lo conferma anche il presidente della Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza, Francesco Rocco Pugliese. Nei pronto soccorso registriamo un maggiore accesso, ma questo in linea anche con i dati degli anni scorsi. Il dato nuovo è però il maggior accesso per i bambini. Sono infatti a ferma circa il 20% in più rispetto alla passata stagione.